benvenuti dragoni questo è il secondo assalto del destiny nostalgia ovvero tutti gli assalti che faremo rifaremo dell'anno 1 buona visione con me c'è anche click a ricordo che non è in fondo alla bocca dell'inferno lo percepiamo c'è un abominio dell'alberia penetriamo nelle loro fosse di evocazione e distruggiamo la creatura prima che la scaglino contro di noi l'idea era tua troviamo questo abominio ma stai andando a dire quanto dovremo scendere per trovare le fosse di evocazione si si che fa la bocca dell'astore io odio l'astore devi ammettere non sai giocare fine due anni un anno un anno un anno un anno un anno un anno questo è non così we qu're Sì ragazzi, lì che non l'aspettiamo perché ci vuole un anno, addirittura anche gli salti dall'anno 1. Sì. 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 no 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 yes io fatto l'ingresso è aperto oh il cavaliere è l'orco quello lì random è andato avanti a tipo pro player ora che ci stiamo avvicinando ricordiamo la pezione che iniziamo quella era da crota sì sì pure qua perché noi abbiamo scoperto che quella punziera che si trovava da crota è quella qui l'ha bevuta con quello che lo fa ha voluto fare il figo questo andare avanti da solo allora io qui avevo i danni perché puntualmente morivo quindi io lo capisco quel figlio ah è partito da sola? allora no oh god oh no i schiavi che mi scompargono davanti oh no no perchè sono morto sono stato lì troppo te no sono morta no eh non ci credo no ma non so disavventura ah non hai capito ti ho visto che cadevi giù quello è stato ah secondo te no vabbè io non volevo io non dovevo morire assolutamente che cavolo fa ce l'ho incatenato ma neanche mi ha reanimato lui quello che mi ha reanimato è di livello più basso ha un più colaggio di venire a salvare un suo compagno di squadra io stavo cercando non ci credo 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 ma sì mi ha dato ma non è scogliato 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 ha battuto il abominio cadde sotto i nostri conti l'avanguardia sarà felice una creatura dell'oscurità è stata distrutta un'attrocità in mente chi che lancia il giallano su di me è fuori no no non è vero non ti ricordo temo che lo scopriremo molto presto simoni questo video finisce qui abbiamo riaffrontato a fuoco ci mancava tantissimo infatti speriamo che anche per l'anno 2 ritorni prima o poi noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like ciao ciao a tutti ciao a tutti